Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanina Verissimo, dove hanno condiviso i dettagli attorno alle loro imminenti nozze, rivelando finalmente la data del tanto atteso matrimonio. La notizia era stata anticipata come un mega spoiler da Barbara Palombelli a Forum lo scorso ottobre e successivamente confermata con la condivisione di un anello di fidanzamento sui. Social all'inizio di gennaio 2024. Dopo tre anni di fidanzamento e la gioia della nascita del loro bambino, Gabriele, lo scorso 19 febbraio 2022, la coppia sta ora preparando il loro matrimonio, suggellando il loro amore. Clizia ha esordito nel raccontare l'emozionante momento. Sono molto emozionata. È stato tutto molto magico. Non che l'amore si era chiuso nell'anello perché non aspettavo la proposta di matrimonio canonica. Ci eravamo detti che ci saremmo sposati e da parte sua non mi sarei mai aspettata cose plateali, anche se a me piacciono. La proposta è arrivata il 31 dicembre, a Capodanno, con il piccolo Gabriele che mi ha portato l'anello e mi sono commossa. La coppia ha annunciato la data precisa del matrimonio, fissata per l'11 ottobre 2024 in Campania. Clizia ha spiegato la scelta del luogo. Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie. Ha poi aggiunto, ottobre è il nostro mese, siamo tutti e due dei bilanciani. Prima di svelare dettagli inediti sulle nozze, Clizia ha dichiarato, sarà tutto magico con un'atmosfera ball chic. Io ho già organizzato tutto. Ci sarà un'atmosfera trasognata con un centinaio di invitati. Paolo, scherzando, ha aggiunto, fosse stato per me avrei fatto una decina di invitati, ma ha poi rivelato il delicato stato di salute di sua madre Eleonora Giorgi, malata di tumore. Anche se mamma sta male abbiamo deciso di procedere perché volevo che lei ci fosse. Mia mamma alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre molto più difficili, però non ha mai perso l'atteggiamento positivo e soprattutto non ha mai perso il sorriso, e questo, per me che sono suo figlio, è un grandissimo insegnamento. Lei sta continuando a dare una lezione ai suoi figli e di questo la ringrazio. Clizia, visibilmente commossa, ha rivelato che Paolo, quando ha appreso della malattia di sua madre, non gliel'ha detto subito, per permetterle di vivere la magia della prova dell'abito da sposa come avrebbe meritato.